radio.com o telefonare direttamente in trasmissione e raccontare a me e anche agli altri ascoltatori la vostra ricetta. Oggi, come vi avevo anticipato l'altra volta, pensavo di parlare del miele. Perché? Primo perché questo è il periodo in cui poi il miele viene smielato, viene raccolto e forse adesso non è, no, è utilizzato però non più come una volta, nel senso che il miele fino all'arrivo dello zucchero, a scoperta dell'America che ha portato poi lo zucchero qua in Europa da noi, è stato l'unico dolcificante conosciuto ed è sempre, non a caso, ha delle proprietà incredibili ed è sempre stato considerato quasi sovranaturale. Non a caso Aristotele lo chiamava il netta re del cielo e Plinio la saliva delle stelle. Perché? Perché il miele effettivamente ha davvero tantissime qualità. Per chi svolge attività fisica è consigliato assumere miele prima perché favorisce il recupero dello sforzo che uno fa. Oltretutto nelle persone anziane, per esempio adesso che è anche molto caldo, se si sentono spossate, hanno un senso di stanchezza, è sufficiente sciogliere appena un po' di miele nell'acqua e già riuscite ad avere energia. È un alimento adatto a tutti, ovviamente devono fare attenzione i diabetici, questo è chiaro, perché, ma questo è un problema per un diabetico, per qualunque tipo di dolcificante. Però il miele, anche se dà un grande apporto energetico, quindi ha delle calorie belle elevate, perché 100 grammi di miele danno 320 calorie, dobbiamo ricordare però che il suo apporto è talmente, avendo un alto contenuto di fruttose, molto dolce, quindi alla fine si finisce per usarne meno. E sembra uno scherzo, però se usiamo lo zucchero normale finiamo per usarne tanto e alla fine l'apporto calorico è più alto. Non dimenticando poi, ricordandoci che appunto ha delle doti così, ha delle proprietà così importanti che lo zucchero, quello lavorato, lo zucchero normale non ha. Fra le altre cose è decogestionante, diuretico, è consigliato nelle ulcere, nelle affezioni dell'intestino, è anti-anemico perché ha un alto contenuto di ferro, quindi per chi, soprattutto le donne che spesso sono anemiche, direi che è il miele perfetto. E poi fissa il calcio nelle ossa e nei denti, al contrario dello zucchero che lo assorbe e ha anche delle proprietà antibiotiche, quindi a questo punto direi che non si può fare altro che utilizzarlo. Io ho scritto questo libro che si chiama Dolcemente l'inconfondibile naturalezza del miele, per la collana dei quaderni dell'Oggione della Damster Edizioni, dove propongo di utilizzare il miele dall'antipasto fino al dolce e oltre. Nella nostra tradizione in cucina il miele viene utilizzato soprattutto per preparare i dolci e i dolci a Natale. Tantissimi dolci regionali, ma non solo regionali, anche in tutta Italia, hanno il miele fra gli ingredienti principali nel periodo natalizio, perché i dolci di Natale, si sa, sono molto ricchi. Certo, parlare di Natale adesso che siamo in estate fa un po'. Però si può utilizzare il miele, come dicevo, dall'antipasto al dolce e quindi può diventare fresco, si può utilizzare davvero in tutti i modi. Io vi proporei un menù intero col miele e secondo me se provate vale davvero la pena. Partirei con delle palline di ricotta che sono molto fresche e come antipasto. Sto palline di ricotta al miele di castagno, che dovrei avere anche la ricetta, quindi il promo per chi ci vede in tv. Esatto. Allora, per chi è in radio, se ha voglia di prendere carta e penna, anche per chi è in tv. Però chi vede la tv in questo momento c'è il cartello con la ricetta, quindi lo può copiare anche da lì. Allora, la salsa. Salsa di cipolle rosse. Perché ho proposto questo piatto, cioè questo antipasto? Perché? Secondo me, allora, già non costa molto perché gli ingredienti, insomma, ci sono delle cipolle, un po' di miele di tarassaco, l'aceto di miele, ma si può anche sostituire con l'aceto di miele, un po' di succo di limone. Adesso vi leggo bene gli ingredienti e le quantità e vi consiglio di provarla perché io l'ho preparata varie volte ed è davvero fresca. Il miele regala un gusto particolare a questa ricetta, è spalmata sul pane, sui crostini, ottima. Quindi salsa di cipolle rosse al miele, ingredienti per sei persone, 750 grammi di cipolle rosse, 100 grammi di miele di tarassaco, poi se volete usare un altro tipo di miele non usate però un miele troppo dolce, al limite il miele di castagno volendo anche. Poi 100 ml di aceto di miele, potete sostituirlo con l'aceto di miele, un cucchiaio di succo di limone, uno spicchio di aglio, una foglia di alloro, un pezzetto di peperoncino rosso, qualche grano di senape, un pizzico di sale, qualche grano di pepe nero e l'olio extravergine di oliva. Allora, procedimento. La parte meno divertente è pelare e affettare finemente le cipolle. Ovviamente per non piangere quando si pelano le cipolle, non so, i consigli e i trucchi sono 100.000 ormai, dal fatto di lasciarle prima in ammollo nell'acqua e poi utilizzarle a altri 100.000, però vale la pena di farlo, insomma, di pelare e affettare finemente le cipolle. Le mettiamo in una larga padella con tre cucchiai di olio extravergine di oliva e poi le facciamo cuocere dolcemente per 10 minuti, facendo attenzione a fuoco basso, facendo attenzione a non bruciarle perché ci servono proprio bionde, tenere, per quello vanno cotte in maniera dolce. Poi uniamo il miele, il miele in questo caso di tarassoco, e facciamo dorare. Prenderanno anche un bel aspetto un po' lucido le cipolle. Bagniamo con il succo di limone, aggiungiamo l'aglio tritato, l'alloro, i grani di pepe, un pizzico di sale e bagniamo con l'aceto. Facciamo cuocere per 15 minuti, mescoliamo sempre con un cucchiaio di legno fino a quando le cipolle non diventano tenerissime. Ecco, a questo punto questa salsa la potete, è buonissima anche fredda. Io vi consiglio di sparmarla sui corstini, la potete utilizzare tranquillamente come antipasto. Ed estate, se la preparate, la conservate anche in vasetti, potete utilizzarla per i vostri pranzi, se invitate amici, o anche come contorno a un arrosto, perché no? Ha un arrosto anche freddo. Io ho provato ed è... a me piace molto, direi che non è per niente male. Poi vi volevo consigliare anche un'altra ricettina, sempre come antipasto, le palline di ricotta al miele di castagno. In questo caso è semplicissima come ricetta. Si prende tanto la ricotta, in questo periodo penso che l'abbiamo un po' tutti in casa. È sufficiente avere della ricotta, della ricotta di mucca o anche della ricotta mista, mucca e pecora. E la mettiamo in una ciotola, aggiungiamo del parmigiano reggiano, grattugiato, che anche questo in casa facilmente ce l'abbiamo, ci mettiamo un po' di sale e pepe e poi formiamo delle palline, dopo aver lasciato riposare il composto per un quarto d'ora e venti minuti in frigorifero. Quando abbiamo formato le palline le passiamo o in erbette fresche, tritate, tipo prefemolo o rucola o basilico, oppure in semi di papavero, aneto, come vogliamo. Queste palline di ricotta nell'impasto però ci aggiungiamo anche un cucchiaino di miele, perché questo miele dà un gusto particolare alla ricotta. Quindi l'antipasto l'avete, la salsa di cipolle rosse e le palline di ricotta. A questo punto vi proporrei sempre con il miele un primo piatto, delle girelle con la verdura secondo la stagione, perché sul libro è con i broccoli, però volendo si può fare con gli asparagi oppure anche con gli spinaci, e il miele è quello di girasole, e c'è anche del prosciutto cotto. Allora si prepara una pasta, una sfoglia, una sfoglia che poi utilizzeremo a strisce per fare le girelle. Poi prepariamo una bella besciamella, e come ripieno invece ci mettiamo dentro del prosciutto cotto e degli spinaci. Poi lo mettiamo in una bella teglia, dopo aver fatto le girelle tagliamo a strisce la pasta, la riempiamo con gli spinaci, il prosciutto cotto e la besciamella, cui abbiamo aggiunto appena un po' di miele e di girasole, che gli dona anche in questo caso un gusto particolare, e poi arrotoliamo, tagliamo le strisce per ottenere delle girelle proprio, lo mettiamo in una bella ruola imburrata e lo cuociamo al forno. Anche queste sono buonissime e fredde, si possono mangiare anche fredde. Poi si può preparare anche un secondo, per esempio possiamo fare le braciole col miele, oppure possiamo preparare dei petti di anatra in agrodolci. Il petto di anatra ha un gusto che si sposa benissimo con il miele. Io lo propongo per esempio con due caspi di radicchio trevigiano, una cipolla bianca, il burro, il vino bianco, un po' d'aceto, il miele d'acacia, una manciata di uvetta sultanina mollata in acqua, del rosmarino tritato, quattro foglie di salvia sminuzzata, sale e pepe. Allora, in questo caso se vogliamo fare il nostro petto di anatra in agrodolce, tagliamo il radicchio trevigiano a spicchi molto sottili. Trittiamo la cipolla finemente e la stufiamo in casseruola. Appena la cipolla diventa trasparente, uniamo il radicchio e il miele e quando inizia a caramellare lo spruzziamo con l'aceto. Anche in questo caso usate l'aceto di miele che è meno acido, diciamo. Facciamo evaporare, saliamo, pepeamo e uniamo l'uvetta che abbiamo fatta mollare, strizzata e facciamo cuocere per 15 minuti. Intanto saliamo e pepeamo i petti d'anatra. Li mettiamo in una casseruola, prima dalla parte della pelle e li cuociamo dal lato della pelle per tre minuti, poi li giriamo e li cuociamo per altri tre minuti. Sfumiamo con un bicchiere di vino bianco secco e profumiamo con il rosmarino e la salvia tritati. Affettiamo i petti di anatra, li adagiamo in un piatto e serviamo con il radicchio trevigiano al miele. Devo dire che anche questo io lo faccio spesso come piatto ed è veramente ottimo. Poi il miele si può utilizzare anche con la frutta, se per esempio prepariamo degli spiedini di frutta molto semplici, adesso è stagione e troviamo della frutta fantastica dal cocomero o l'ananas o anche il kiwi, che fa kiwi, ananas e cocomero, sono belli colorati, si possono preparare degli spiedini e poi servirli con un po' di miele sopra. In questo caso usiamo un millefiori o il miele d'acaccia, quelli belli liquidi. Allora, i mieli come ben sapete possono essere di vario tipo, cioè ci sono i mieli, quelli unifloreali che sono composti di un unico fiore e sono davvero tanti. Per esempio in Sicilia c'è il miele di zagara perché si ottiene con i fiori dell'arancio, della pianta dell'arancio ed è ovviamente profumatissimo. Dalle nostre parti invece era molto, si trovava facilmente il miele di castagno, anche se in questi ultimi tempi è diventato quasi una rarità per il problema della malattia del castagno. E poi c'è il miele, ci sono mieli in questo periodo tipo il miele di sulla che è una pianta che a me piace moltissimo, non so se l'avete vista sul nostro appennino, si trova facilmente e ha questi fiori bellissimi sul rosso-violetto intenso e anche con quello si fa un miele molto particolare, anche col tarasso che appunto con quello che chiamiamo comunemente piscialetto si ottiene un miele che però ha un gusto particolare e non piace a tutti perché è molto amaro. Io non ho ancora parlato del dolce, ho portato qua in trasmissione delle lingue di gatto che ho preparato ieri. Al posto dello zucchero le ho messo del miele e poi le ho uniti due a due con della crema di nocciola al miele. Una cosa un po' particolare e molto adatta soprattutto ai bambini, vabbè non solo ai bambini perché alla fine la crema di nocciola piace a tutti. Però anche le lingue di gatto sono semplici da preparare e si possono fare appunto tantissime cose. Io in questo caso le ho proposte così, tanto per dare un'altra idea sull'utilizzo del miele. Poi c'è anche una bella ricettina per esempio nei primi piatti molto più veloce delle girelle che sono gli spaghetti al miele di agrumi. In questo caso se volete provare prendete gli spaghetti, uno spicchio di aglio, un cucchiaio di cannella, due cucchiai di curry, un cucchiaio di semi d'anice, un cucchiaio di semi di finocchio, un cucchiaio di alloro tritato, un cucchiaio di pinoli, quattro cucchiai di miele di agrumi e quattro cucchiai di pan grattato, olio d'oriva e sale. È una ricetta molto veloce, dietetica e profumatissima. Per me è perfetta per l'estate. In una padella antiaderente mettete due cucchiai di olio extravergine d'oliva e unite uno spicchio di aglio. Nel frattempo cuociamo gli spaghetti perché il sugo, fra virgolette, è veloce da preparare. Aggiungiamo nella padella tutte le spezie, il pangrattato, i pinoli, il miele e un pizzico di sale. Non facciamo altro che scolare la pasta e poi condiamo con il sugo al miele di agrumi. Prima avete visto nella ricetta che si parlava dell'aceto di miele. Allora, non so se tutti conoscono l'aceto di miele. L'aceto di miele è un tipo di aceto molto particolare che si ottiene per fermentazione. Probabilmente si tratta dell'aceto più antico del mondo perché era già conosciuto ai tempi degli Egizi. L'aceto di miele ha un sapore acidulo, un colore dorato e un profumo intenso ed è molto ricco di sali minerali. Ha un profumo intenso, come dicevo, ed è molto adatto per sostituire l'aceto di vino bianco. È ideale da utilizzare con il pesce e soprattutto con i crostacei e anche adatto da utilizzare con la frutta e la verdura. Perché è caduto in disuso l'aceto di miele? È caduto in disuso perché quando è uscito l'aceto di vino, ovviamente il suo costo era molto minore e quindi si è iniziato a utilizzare l'aceto di vino. Lo stesso motivo per cui, come dicevo prima, al posto del miele come dolcificante si è iniziato a utilizzare lo zucchero. Però il miele ha tante di quelle qualità che se il nostro organismo si abitua al miele, davvero riusciamo a aumentare le nostre difese immunitarie. Per esempio, durante l'inverno, se noi prendiamo l'abitudine di utilizzare anche quello che si ottiene dal miele tipo il propoli o la papa reale, riusciamo a evitare casomai di utilizzare delle medicine o di prendere le famose pastigliette per aumentare le difese immunitarie. Un bel cucchiaio di miele su una fetta biscottata la mattina a colazione, se lo facciamo in maniera sistematica, davvero aumenta le nostre difese immunitarie. Non so, spero di avervi incuriosito. Se volete provare qualche ricetta che ho proposto, se volete mandare qualche ricetta vostra, vi ricordo i numeri di telefono 051 40 70 320, 051 40 70 323, oppure ciao radio, chiocciolaciaoradio.com. Il prossimo mercoledì parliamo invece di insalate, insalate fredde perché il periodo è perfetto. Vi lascio con Stefano. Ciao a tutti, arrivederci.